buongiorno e benvenuti a questo corso a questo webinar su il prodotto alle piare cari di totem di zk teco un sistema di riconoscimento targhe per per autovetture e modello di una telecamera della nostra linea 8000 adattato questo a questo tipo di funzione è un modello plug and play con pochi settaggi non è molto complicato da configurare come come telecamera stand alone è una telecamera che funziona sia con una modalità autonoma quindi al suo web browser e sia collegato ad un salto di gestione di controllo sesso e i modelli sono in sono quelli che vedete attualmente in questa slide c'è il modello bullet che è possibile collegare un palo a una parete o il modello totem tutti tutti i due modelli sono con una protezione per quanto riguarda gli agenti atmosferici hanno una funzionalità master slave nel senso che una telecamera può avere la possibilità di tramite la sua interfaccia web di aggiornare le altre telecamere con con le liste di accesso delle le targhe abilitate accesso al barco può avere la funzionalità di essere connessa con sotto di terze parti e viene un sistema che viene applicato per controllo accessi a parcheggi arco di live applicazioni che necessitano di un riconoscimento della targa di un veicolo può essere utilizzato con sistema stop and go o con un sistema una o più corsie i vantaggi di questa telecamera sono la tecnologia molto semplice e ha un efficiente controllo accesso per i veicoli per le targa una configurazione abbastanza flessibile come dicevamo appunto è molto veloce l'installazione in modalità con la propria interfaccia web ha delle altre prestazioni di installazione ha la possibilità di essere programmata da remoto quindi la possibilità di essere di avere l'accesso tramite un servizio NAT della rete all'interno all'esterno è facile da installare intendo e mettere in servizio tuttavia comunque è richiesto una formazione minima su installazione di circuiti sctv e un po' di nazioni di informatica la tecnologia incorporata per il riconoscimento delle targhe e all'interno della telecamera quindi la telecamera ha già tutte le funzioni per svolgere questo questo uso e sotto il CR viene rilevato direttamente all'interno della fotocamera e all'interno della fotocamera abbiamo tra modalità di rilevamento che sono rilevamento tramite un trigger quindi tramite un'azione esterna a un rilevamento di movimento quindi si attiva quando viene intercettato diciamo così un veicolo un movimento nell'area di visualizzazione della telecamera oppure ha il rilevamento della targa su un flusso video continuo il sistema adattabile a ogni tipo di installazione lavorando in modalità slevi si possono mettere 1, 2, 3, N telecamere per controllare più archi a un raggio di lettura fino a 8 metri con velocità di 20 km orari sempre ammesso che vengono rispettate le installazioni ottimali come dai quattro punti suggeriti di seguito non riconosce solo i caratteri latini ma anche arabo italianese alfabetici e reddici attualmente vengono supportate più di 80 lingue il controllo dell'apertura della barriera automatica o del cancello può avvenire tramite un relè che è integrato all'interno della telecamera la gestione degli accessi dei veicoli in questo varco può avvenire tramite delle liste e avete la possibilità di fare infinite liste con determinate fasce di orari o di giorni per questi accessi essendo avendo la possibilità di funzionare stand alone permette l'eliminazione di integrazioni con sistemi abbastanza complessi di controllo accessi e quali potrebbero richiedere parecchio tempo di configurazione come vedete in questo slide è una camera con una network camera quindi con accesso web è un indirizzo dp nella seconda parte vediamo i totem che possono essere di due colori può essere integrata opzionalmente con una controller e software zkb security per poter aprire delle barriere come mostrato nella figura del modello pro bg 3000 le quattro regole di installazione sono fondamentali chi va sul posto dell'installazione deve prima di tutto capire e eventualmente analizzare un attimo lo scenario che gli si presenta di come deve essere posizionata la telecamera di dove posizionarla della luce solare se ci sono delle zone domani determinati ore del giorno e quindi fare una piccola analisi su come dover installare questa telecamera i trucchi e i segreti sono quelli di avere un riconoscimento della targa e lo vedremo dopo in pratica con un'altezza del pixel di 30 del carattere della targa di 30 pixel questo lo si può ottenere spostando la telecamera dalla zona di installazione magari con un palo piano piano facendo avanti e dietro fino a quando si inquadra la zona adatta il range di distanza tra la telecamera e la targa può andare da 3 agli 8 metri per permettere il LED di infrarosso di riuscire a legge la targa anche in orario noturno l'inclinazione verticale della telecamera rispetto alla targa non dovrebbe superare i 25 gradi e quello orizzontale i 20 gradi l'inclinazione della targa in questa slide qua è un 5% viene suggerito e la velocità non dovrebbe superare la velocità di 20 km orari per la percorrenza della macchina nella corsia di sviluppamento per riuscire a fare questa impostazione dei 30 pixel il software vi viene in aiuto dopo vedremo dove dandovi anche i pixel rilevati dalla telecamera tutti i fotogrammi, tutte le telecamere riconosciute hanno questo formato il numero della targa nella nazione riconosciuta in quale corsia è stata riconosciuta l'accuratezza dell'UCR e l'alteto del pixel del carattere che la telecamera è riuscito a riconoscere e l'ora e la data come abbiamo detto prima la velocità di infrarosso possono lavorare bene fino a 8 metri in questa tabella qua potete anche vedere in base all'angolo dell'angolo che dicevamo prima in base all'altezza e in base alla distanza di calcolare l'angolo su quale può avvenire questo posizionamento della telecamera questo vi può aiutare quando siete in fase di analisi in fase di installazione della telecamera stessa l'installazione ottimale della telecamera su una consiglia ben definita senza luce di urna che raggiunge la telecamera direttamente senza ostacoli sono le installazioni di base l'inclinazione della pavimentazione stradale l'angolo di inclinazione della targa può avvenire e non deve superare i 5 gradi rispetto alla rilevazione della telecamera potete agire in due modalità o con le viti di fissaggio oppure per fare un fine tuning girando questa piccola vite allentando questa piccola vite potete fare la correzione per avere l'angolo migliore più perpendicolare per il risultamento della telecamera la velocità del veicolo come dicevamo prima può essere fino a 20 km orari dai 15 ai 20 km orari per essere sempre in regime di sicurezza è consigliato un sistema di stop and go oppure dell'opportunità segnaletica adeguata per distruire le persone che devono passare in questo dato ci sono degli altri consigli sui settatili della telecamera e questi sono a scopo illustrativo molto dipende dal posizionamento, dalla luce dalle prestazioni di installazione i problemi che possono creare un malfunzionamento della telecamera possono essere anche determinate da target poco visibili, scolorite quindi un consiglio è anche quello di effettuare prove eventualmente con l'amministrazione di essere in due persone uno sta davanti al computer per visualizzare i parametri l'altro fa le prove questi sono dei parametri che sono dentro la setup della telecamera non sono detti che sono gli ottimali però per una stanza di lavoro di 3-4 metri il valore dell'otturatore di solito lo consigliamo su un 10.000, 10.000 se la target è sovraesposta, troppo luminosa abbassate il valore dell'otturatore oppure se troppo scura è stato l'otturatore a 1.500 come potete vedere nella vostra installazione se fosse un hardware che fonda in una determinata fascia oraria dovete trovare il miglior compromesso per riuscire a leggere la data spendendo un po' di tempo a fare queste prove la telecamera ha anche la possibilità di avere vari settaggi su quello che riguarda la GC lo shutter, il backlight level quindi sovraesposta, sovraesposta la possibilità di fare la calibrazione di fare l'apertura della lente manuale o semi-automatica queste sono tutte prove che noi possiamo darvi dei consigli e sul campo dovete trovare la situazione ottimale la risoluzione consigliata per far funzionare questa telecamera è la 720p, la 1280-720 quando è necessario utilizzare la 182p in un caso dove ci siano due corsie viene consigliata questa risoluzione per avere una definizione migliore l'apertura del deframe della messa a fuoco può essere, come abbiamo detto prima può essere manuale o semi-automatica in base all'installazione lo zoom può essere configurato nella pagina live dopo vediamo in diretta come fare questa operazione molto importante è configurare il ROI il region of interest il region of interest è praticamente quello che andremo a disegnare come zona di regolamento della targa c'è la possibilità anche di aggiungere o eliminare il menu OSD dove viene visualizzato sul video il nome della telecamera e l'orario di funzionamento le caratteristiche tecniche della telecamera e della pagina del menu principale del menu dell'RPR sono la visualizzazione a fotogrammi una pagina di repilogo dove c'è il sommario dello stato del sistema dove si vede lo spazio libero della memoria SD di serie dentro la telecamera lo spazio libero della telecamera lo spazio libero della telecamera al suo interno del sistema operativo e della memoria dedicata al riconoscimento dell'OCR l'ultima lettura in pixel della targa rilevata il tempo impiegato dall'OCR che è servito per fare questo tipo di riconoscimento qui in basso e il tipo di funzionamento come abbiamo detto prima il funzionamento sono tre trigger, motion detection oppure free flow quindi flusso libero in questo caso questo slide mostra il tipo di funzionamento su motion abbiamo la possibilità di mostrare in tempo reale qual è la nostra zona di interesse dove poter vedere il riconoscimento della taglia e abbiamo anche la possibilità di vedere le due corsie sempre nella pagina di ricerca nella pagina principale dell'RPR abbiamo la possibilità di fare una ricerca nello storico del riconoscimento delle telecamere con dei filtri dalla data alla data per tutte le targhe per la lista di tutte le targhe o per delle liste che abbiamo personalizzato o fare una ricerca per una determinata paglia si può visualizzare solamente l'immagine della targa riconosciuta cioè quello che l'OCR è riuscito a catturare passando con il mouse sopra questa immagine lo vedremo dopo al vivo si può vedere l'intera immagine che ha preparato la telecamere qui abbiamo la colonna dell'identificativo dell'operazione con numero univoco abbiamo il tempo di quando l'OCR ha rilevato la targa la targa che è stata rilevata in quale corsia è stata rilevata la targa l'accuratezza dell'OCR nel riconoscere la targa e la nozione della targa nel menu delle liste di questa telecamera abbiamo ne possiamo creare un limitato numero di liste e per ogni lista abbiamo più di 10 azioni differenti che possono essere dagli ingressi esterni quindi un relai che dopo un consenso di una lettura di una tessera o di una lettura di un'antenna UHF mi attiva la telecamera in modalità riconoscimento e solo dopo aver fatto entrambi i riconoscimenti quindi la barriera mi viene aperta oppure nell'ingresso di input mi posso mettere un pulsante per l'apertura manuale della barriera tramite il software della telecamera ho la possibilità tramite HTTP di sportare dei file o dei JSON per dare le informazioni che la telecamera ha acquisito a solito di terze parti ha la possibilità di interfacciarsi con un video management system di Mindstone e ha la possibilità di comunicare tramite dei socket via software con dei trigger server quindi oltre ad avere la possibilità di avere un trigger fisico con il pulsante come abbiamo detto con una controller a parte e anche la possibilità di essere pilotata da software di diverse parti c'è la possibilità di schedulare tutte queste operazioni in determinate fasce orarie quindi posso dire che l'apertura via software mi può arrivare solo a sala della domenica e l'apertura del pulsante manuale può funzionare solamente nell'orario dove c'è il presidio della guardia mia o della persona che è vicina al pulsante quindi come abbiamo detto le funzioni delle liste hanno la possibilità di abilitare i segnali digitali in entrate e in uscita della fotocamera appunto per avere delle interazioni con la telecamera scorsa della telecamera stessa tramite HTTP di inviare i protocolli analitici ad un server di video management system la lista della comunicazione HTTP è presente nel menu che è online embedded all'interno del software della telecamera c'è anche la possibilità di archiviare i risultati su un server HTTP possiamo inviare le immagini solo della camera solo l'immagine della targa solo tutta l'immagine che è stata ricevuta gli orari dell'arrivamento in file CSV in file XML e in file JSON c'è la possibilità di avere una funzionalità FTP, JPEG e MTT dove praticamente per una migliore organizzazione delle immagini e dei dati che vengono rilevate dalla telecamera vengono create delle sottocartelle con informazioni di anno, mese, giorno per una più facile consultazione come abbiamo detto c'è il protocollo milestone dove praticamente c'è un protocollo di comunicazione che invia gli identi analitici al sistema di VMS di video management system milestone c'è la possibilità di far inviare una mail senza l'immagine incorporata però con la possibilità di configurare il campo oggetto e di configurare il messaggio della mail c'è la possibilità sempre un'azione della telecamera legata alle liste di avere questa connessione per inviare dei messaggi XML o JSON in solito delle terze parti in tempo reale questo è l'elenco delle liste dopo lo vedremo meglio in pratica dove c'è la possibilità di sportare le liste via FTP per la comunicazione master-slave la possibilità di importare delle liste da sotto di terze parti oppure anche da una modifica fatta anche a mano del file CSV o da Excel dalla telecamera master possiamo inviare tramite FTP le informazioni a tutte le altre telecamere sleva per avere l'elenco delle liste delle targhe per una sincronizzazione e importare e esportare le liste manualmente di questi file questo è un esempio di un'esportazione di una lista in formato Excel dove dal menu della telecamera posso fare l'esportazione in Excel lo apro, aggiungo una targa sotto questa cella di Excel che si chiama number plate gli devo assegnare un identificativo univoco che è un progressivo dell'elenco che ho nelle targhe già inserite all'interno della telecamera gli posso aggiungere un timestamp dove praticamente è l'ora di attivazione di questa operazione gli posso aggiungere una descrizione della macchina e soprattutto gli posso aggiungere la data di validità di inizio apertura del varco del riconoscimento di questo determinato tipo di targa e la fine della validità di questo permesso per poter accedere a questo varco una volta modificata a mano questo file di Excel lo importo manualmente con questa opzione il formato data è un formato riconosciuto in base alle specifiche ISO 8601 e se non viene inserito il sistema lo capra automaticamente il timestamp lo prende data e ora attuale la data di validità lo stesso identica cosa e la data di validità la data di fine validità viene presa con un valore abbastanza assoluto che è fino all'anno 3000 si possono fare tante liste nelle liste si può anche operare direttamente inserendo una sola targa alla volta nel menu della lista andiamo a premere sul tasto più e qui abbiamo la stessa identica possibilità che avevamo nel foglio di Excel inserire la targa inserire la descrizione del veicolo o del proprietario dell'accesso la data di inserimento che è il timestamp che è quella di quando viene fatta e la data di quando viene fatta questa operazione la data di validità dell'accesso al barco e la data di fine accesso al barco lo scenario master slide delle telecamere è presente in questa slide qua io posso lavorare su un web server della telecamera master e tramite l'FTP inviare tutte le volte ci fasse una modifica un file a questo FTP server e automaticamente le telecamere slide vanno in base alle nostre configurazioni che faremo di seguito a leggere i file prodotti dalla telecamera master per l'aggiornamento delle targhe al loro interno qui abbiamo un esempio di come viene fatto l'export della telecamera master quindi gli metto l'indirizzo dp di questo programmino FTP questo server FTP che sarà una macchina che può essere dedicata o meno per questo servizio alla porta del database il formato con il quale la telecamera master esporta il file aggiornato con il riletto delle targhe e ovviamente il user di la password dell'FTP server sempre nel menu principale della telecamera RPR c'è una voce dove c'è la possibilità di collegare delle altre telecamere esterne noi abbiamo la telecamera RPR che punta nella corsia o nella zona dove sta transitando il veicolo però vogliamo avere legato al riconoscimento dell'OCR quindi al riconoscimento della tag e all'accesso vedere anche cosa succede magari eventualmente durante il transito della macchina o subito dopo il transito della macchina quindi possiamo collegare più telecamere allo stesso evento per avere un controllo maggiore diciamo così della zona di accesso e le telecamere devono essere delle telecamere con la possibilità di avere lo streaming con le sue tramite anche TTP delle telecamere con il collegamento LAN è fondamentale dove possono andare le telecamere analogiche e il sistema mostra oltre all'immagine che abbiamo detto prima quella del riconoscimento della targa il riconoscimento dell'auto anche le immagini successivi la prima volta che lanciamo il risotto della telecamera a bordo dell'LPR abbiamo la necessità di dargli un setup cioè di fare una prima configurazione la prima configurazione è quella di settargli il continente vedremo dopo quali sono i continenti e le azioni per la quale la telecamera può effettuare questi riconoscimenti qui di seguito abbiamo la spiegazione dei tre tipi di funzionamento il trigger il workflow e il motion detection trigger è quando il motore di riconoscimento del targa CR è normalmente in stand-by quando viene ricevuto un comando esterno o software esceva un numero configurabile di immagini di acquisizioni che si possono settare tramite le trigger option e restituisce il risultato del riconoscimento della targa i risultati sono indipendenti uno dall'alto se lo stesso veicolo è ancora presente su un secondo comando trigger la stessa targa non verrà restituita una seconda volta e ad ogni trigger esegue la posizione fino a quando non viene raggiunto o un certo numero di catture configurate in trigger options o il tempo supera il parametro di time out il flusso continuo è la modalità libera cioè la telecamera è sempre diciamo attivata per vedere il flusso libero del video e il motore di riconoscimento delle targhe esegue continuamente l'ucr su tutti i frame che vengono configurati nella stazione dps ogni volta che un nuovo veicolo entra in scena vengono memorizzati i risultati del riconoscimento dell'oceano se memorizzare o meno il risultato di ogni acquisizione c'è un settaggio apposta nella funzione free flow da sistemare il motion detection funziona in modo simile alla modalità di flusso libero però confronta e quindi acquisisce l'intera immagine quando l'ultima immagine è uguale all'immagine corrente un altro settaggio fondamentale per l'affrontamento di questa telecamera è il ROI la regione di interenza cioè la regione per la quale la telecamera fa il riconoscimento nell'immagine che viene visualizzata dalla telecamera è abbastanza semplice configurare i ROI voi avete nella nel menu dell'rpr la possibilità di disegnare un quadrato nella zona dove dovete fare il riconoscimento della taglia bisogna disegnare tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse disegnato un quadrato rosso sull'immagine il sistema quando viene rilasciato il pulsante del mouse ha una funzione di autosavvantaggio e compaiono dei numeri di fianco alla label del menu del ROI dove dice la zona di di acquisizione creata una volta fatto questa operazione qua in alto su il menu dell'lpr abbiamo un pulsante che si chiama Restart Service quindi disegnate la vostra immagine fate le vostre prove disegnate scusate il vostro rettangolo per la zona di ROI fate le vostre prove se non non è ottimale la zona fatta avete la possibilità di fare un reset ROI che è questo pulsante qua di ridisegnarla e di rifare il Restart Service per rifare ripartire il servizio di OCNAP c'è anche la possibilità c'è la possibilità di settare anche le corsie le corsie praticamente sempre nell'immagine in quadrato della telecamera servono per avere una migliore accuratezza della funzione dell'OCR dopo vedremo come e dove settarlo e avere anche la possibilità di selezionare solo una determinata zona una determinata lane una determinata carreggiata corsia chiedo scusa per poter fare il riconoscimento della parte anche questa questo setup la possibilità di fare prove di trovare la situazione ottimale facendo l'operazione di disegno della linea di fare ripartire i servizi effettuare le prove e eventualmente di cancellare il disegno fatto e di farne una ex norma e sempre nella nella parte diciamo di setup del PR software ci sono dei parametri che potete trovare con il significato di questi parametri che potete trovare premendo sul pulsante punto interrogativo che trovate nel menu comunque qui vediamo una piccola carrellata i parametri che sono i seguenti la la confidenza minima eh della telecamera dello CR dell'affidabilità nella lettura di una targa per considerare la varga l'affidabilità è un parametro del motore CR per riconoscimento delle targa ha un valore da uno a centro dove il centro è più affidabile è chiaro che diventa più andiamo su con il valore diventa eh lento magari il riconoscimento delle telecamere però è quasi imperseppibile questo questa lentezza il numero meno dei caratteri per affinché eh di una targa affinché sia considerata come valida il 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 su quale la camera focus lean è il numero delle corsie di lavoro della telecamera cioè dove la telecamera si concentra per il la lettura della della targa ha la possibilità di eh fare anche il calcolo della direzione della della del veicolo ovviamente se viene selezionato la lane 1 in questo caso qua noi eh avremo il passaggio della eh autovettura con la telecamera che va da lane 1 verso lane 2 e quindi avremo un movimento che va da sinistra verso destra e potrebbe potremmo definirlo di entrata se invece eh abbiamo come in questa situazione qua un'unica 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 qualsiasi dove le macchine eh mi vanno dalla lane 2 alla lane 1 c'è la possibilità di vedere di configurare come si fosse un'uscita il dove è posizionata la camera rispetto alla la vettura eh che sta percorrendo il barco se a sinistra se al centro ma non credo per l'altezza se no eh abbiamo un'altezza massima di tramite 3,5 quindi camion avrebbero un po' fatica a passare o alla destra della dell'autovettura sempre nel menu della delle piave software abbiamo la possibilità di eh configurare le opzioni del trigger cioè cosa fare che cosa succede quando eh viene viene fatto un un trigger software i parametri sono i seguenti quanti macchine devono essere lavorate delle targhe prima di fermare questo trigger eh un trigger time out nel senso che magari viene dato eh eh il comando di eseguire la lettura dello CR del del software della telecamera ma non c'è eh la macchina effettivamente davanti all'inquadratura e quindi eh il riconoscimento termina ad un determinato in un determinato lasso di millisecondi che andremo a definire in questo menu e selezionare da quale porta d'ingresso eh possono arrivare i trigger e scegliere la porta digitale di del trigger queste sono le opzioni per il la la personalità quando è in free flow i parametri sono i seguenti perché un risultato si è considerato valido l'ultima targa elettron deve essere tra le n riconosciute come valide in questo caso cinque ehm cinque frame dopo cinque riconoscimento di OCM questo filtro è utile per evitare nel caso ci fossero degli ingorghi o di vettore abbandonato momentaneamente della zona del ROI per cui la telecamera potrebbe eh fare aprire la smart il free flow motion filter capture è quello che abbiamo appena detto il motion filter time il il tempo meno trascorso della eh dell'arrivamento della stessa tarde sulla per fare una nuova scansione del CR e la lunghezza delle immagini quando è selezionata la modalità motion detection altri parametri sempre per il setup del LPR software eh sono il tipo di tipo di visualizzazione dei veicoli rilevati nella eh schermata di eh eh principale di di riepilogo delle delle immagini che sono queste qua questo qui la possiamo vedere come eh un'immagine se possiamo vedere in questa modalità qua quindi l'immagine con i i dati delle immagini oppure con una lista eh eh di 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 dati e basta la possibilità di eh eh dare una pesantezza una pesantezza una una comprensione all'immagine eh eh alla qualità dell'immagine le immagini vengono eh salvati in formato jpeg e in questo caso viene salvato con 40% di eh qualità se il flag eh eh salva la l'immagine della targa e selezionato lui salverà solamente questo tipo di immagine secondo eh verrà verrà salvato solamente questo tipo di immagine e non quella che viene visualizzata al passaggio del mouse che è l'immagine intera della che la telecamera acquisito quando è stato effettuato l'incr sempre eh se viene selezionato save the image quindi vengono salvate sia la targa che eh che l'immagine completa la l'immagine l'immagine l'abbiamo detto prima eh dove vengono salvate le immagini vengono salvate nella scheda SD di memoria che viene eh 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 fornita insieme alla telecamera è un SD da 64 giga c'è la funzione per vedere la memoria restante la memoria libera della memoria di questi 64 giga della telecamera c'è la possibilità di andare a farli purge quindi di andare a eliminare eventualmente eh i dati più vecchi quello che vedremo successivamente eh il trigger socket port e la porta eh 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 la porta tcpp per configurare eh i messaggi in ingresso e in uscita eh eh da sotto di terse di terse parti l'action time consente di esibire le le azioni immediate o di memorizzare per eh eh l'elaborazione una volta completata la posizione delle immagini e il periodo per eh il tempo in ore da ritenersi per ritentare l'esecuzione delle azioni precedenti quelle eh che sono state memorizzate e entro quante ore devono essere state devono essere effettuate sempre nella parte del settore della telecamera eh non della parte LPR quindi della parte eh della telecamera nella quale è stato incluso questo software LPR eh che eh che eh sono le telecamera della serie 8000 di ZK Tempo abbiamo un'altra parte di menù dove possiamo vedere eh e possiamo modificare alcuni dati non tutti questi eh questi posti di menù sono influenti ai fini della del rilevamento della delle LPR quindi il rilevamento della della tarca di un veicolo faccio un esempio non c'è eh la possibilità di avere riconoscimento facciale eh non c'è la possibilità di eh avere un segnale di allarme quando eh un oggetto viene lasciato o viene smarrito nella zona di eh eh acquisizione della telecamera quindi eh alcune funzioni della che possa che può avere la telecamera la serie 8000 in questo ehm in questa applicazione dove è stato aggiunto il salto del panel LPR sono rimaste a livello come voci ma non non vengono non vengono utilizzate in questo in nella prima voce di minuti del setup troviamo eh l'informazione del dispositivo il device name il nome della telecamera il tipo di di telecamera che è IPC sta per IP camera quindi camera non consigliare video il numero di serie che è molto importante quando eh eh se vi capita di smarrire eventualmente la password eh se non vi ricordate più il la la password per poter entrare dentro la telecamera eh potete tramite questo questo sistema aprire un ticket nella nostra piattaforma di assistenza tecnica e con il numero di serie e questo numero qua eh noi vi inviamo le informazioni via Reset per eh per poter accedere alla telecamera per il quale non avete eh più l'accesso se anche un pulsante eh nella nella telecamera eh che permette di portarlo eh alla configurazione di di partenza di base però se avete già configurato eh tutta una serie di parametri di liste di targhe e mhm malauguratamente non avete fatto il backup magari prima di prendere questo pulsante eh aprite il ticket per fare eh eh lo sblocco della della password amministrativa eh in questa posizione di di menu della parte setup della telecamera 8000 che è diverso come abbiamo detto dalla telecamera LPR eh c'è un QR code che eh serve se eh scaricate la versione della della app sia per Android sia per ehm iOS il software si chiama Android Pro e avete la possibilità di avere solamente il preview di quello che sta inquadrando la telecamera non c'è nessuna funzionalità che possa aggiungere una targa da remoto non fa assolutamente niente serve solamente a livello di vedere cosa sta inquadrando in questo momento la telecamera scusatemi ogni tanto il mouse mi torna indietro sempre in questa sempre in questa in questo momento di setup abbiamo la possibilità di settare l'ora la data e l'ora di farlo eh tramite questo pulsante che si collega al pc quindi prende l'orario del computer che è connesso tramite l'interfaccia e tramite il il browser web si può configurare un LTP quindi un server di quelli che forniscono l'ora che sono su internet si può configurare il la possibilità dell'ora legale questi sono i parametri di di settaggio dell'osd eh quello che viene visualizzato e viene messo in sovra impressione sopra l'immagine che la telecamera inquadra si può lasciare attivo o se nella zona eh roi eh compare questi questi due eh dati di sovraimpressione eh è consigliato di disabilità eh la telecamera ha anche la possibilità di avere una uno streaming uno streaming video o audio si configura da questo da questo menu a tendina e si può collegare eh un video registratore eventualmente per poter registrare non solo il fotogramma della della targa eh rilevato con lo CR ma proprio tutto il flusso video eh in base alle impostazioni che vengono poi eh configurate dentro le NVR eh 24 ore su 24 c'è la possibilità di comprimere il video eh in NACA 264 265 265 265 ci sono le possibilità di poter configurare la banca passante perché se io ho su una rete 4 5 telecamere eh avendo delle immagini con full HD eh posso un attimino un po' non dico saturare la rete ma avere qualche problemino quindi avete la possibilità qui di modificare un pochettino il il flusso dello stereo video della della telecamera avete la possibilità di creare degli utenti che possono solamente vedere determinate eh eh funzioni o fare un utente che possono aggiungere le targhe o utenti di amministratore molto importante di questo di questo modulo di ehm di questo pannello di di controllo della parte del setup della telecamera 8000 sono i settaggi via rete la telecamera viene fornita con un indirizzo dp di default che è 192 168 1 86 quindi potete collegare direttamente tramite un cavo di rete al vostro personal computer e ovviamente dovete configurare l'indirizzo dp di rete del personal computer nello stesso range e aprire il browser e puntando 112 268 1 86 accedete alla pagina di login della telecamera di default ehm la login e la password sono admin 1 3 4 5 6 dopo avete la possibilità di andare a cambiare in questo in questo menu se anche ehm sempre in questo menu qui la possibilità di avere miglia service miglia service è una url un metodo diciamo così di invio ehm invio dei dati ehm per poter eventualmente collegare o avere la visualizzazione su un altro punto di controllo ehm che magari non è la guardia mia ma uno può avere un altro punto dove poter vedere le immagini della telecamera che non sia né la guardia mia né l'nvr che vi ha detto prima ma si può collegare con ehm con questo con questo indirizzo qui utilizzando un programma tipo video lana per vedere in diretto lo stile mobile abbiamo la possibilità di configurare il web server che all'interno della telecamera che possa rispondere alla modalità 80 o alla modalità 443 quindi con i dati ehm cifrati possiamo mantenere entrambi o uno non lo sono consiglio di non disattivare tutti c'è un'altra ehm funzione che purtroppo adesso qui è rimasta sotto al sotto menu che è quella di dire che cosa succede in in caso di eccezione quando c'è la rete eh network disconnesso inizia la registrazione ehm video oppure ehm attiva un'uscita di di allarme e questa telecamera qui ha due ingressi per il trigger e una uscita sola per poter pilotare direttamente una barriera un cansello o una una porta scorrevole di un garage quindi questo che è un parametro che è settato di default quando gli viene inviata la telecamera eh potete o lasciarlo attivo e quindi sapete che quando la telecamera non ha più il dialogo con la rete va a aprire il barco tramite il suo relè eh all'interno della telecamera oppure potete disattivarlo questa telecamera qui come abbiamo visto fino adesso può funzionare da sola eh ma può essere anche integrata con i software biosecurity che è il nostro software di controllo accessi dicevamo che può essere integrato con controllo accessi biosecurity con eh l'interazione di questo software e con la possibilità di avere due modalità di funzionamento una è online e quella è offline e può avere anche una doppia verifica di accesso nel senso prima io posso leggere la targa e successivamente posso ehm aggiungere un apparato eh tipo il pro face per riconoscimento del volto posso aggiungere un'antenna UHF per rilevare prima il tag eh dell'auto e solo quando il tag rileva un accesso consentito a quel punto eh do l'impuso tramite il telegram per fare il riconoscimento della targa e quindi di avere anche l'immagine salvata della persona che è transitata quindi posso avere un livello di sicurezza ehm abbastanza elevato o posso farla funzionare solo come passate il mio termine apri porta o apri cancello o apri marco allora la telecamera con con la modalità di funzionamento online eh ha una una comunicazione abbastanza complessa che purtroppo non vedremo in questo webinar perché ci vorrebbe un webinar a parte solo per questa per questa configurazione qui e invia al al software tutte le targhe riconosciute tramite lo CR il software decide cosa fare con queste informazioni e eh se fare accedere o meno il veicolo il software anche invia l'elenco delle eh delle targhe a ehm alla telecamera e allo CR nelle nelle liste che andremo a definire per poter permettere l'accesso nell'esempio della dopovalidazione eh il eh come abbiamo detto prima eh si può abbinare un terminale di riconoscimento facciale per FaceX la modalità del funzionamento offline ehm praticamente lavora solamente su la lista delle targhe che vengono inserite nel modulo eh delle persone che sono censite all'interno del software staccato a bio security e i software si preoccupa di inviare tramite l'FTP eh che andremo a vedere successivamente l'elenco delle targhe tramite un foglio un documento di Excel e la telecamera opportunamente configurata va a fare l'importazione di queste di queste targhe per avere l'autorizzazione per aggiornare le sue liste eh di accesso questo è l'esempio che dicevamo prima della doppia configurazione della sia della targhe più del viso e per avere un livello di sicurezza aggiuntivo dentro sotto potete vedere la visualizzazione dell'immagine e chi eh quale targhe sono sono state riconosciute l'orario del riconoscimento e da quale dispositivo da quale telecamera arrivano queste eh queste queste immagini qual è la lista eh dove dove sono state eh inserite queste targhe e la possibilità di vedere in questo caso qua eh la corsia di marcia è una sola quindi non è stato configurato il il lane e l'accurantezza del riconoscimento della targa il tipo della nazione della targa e cliccando sopra al riconoscimento della foto potete vedere la foto che è stata acquisita quando è stata fatta eh l'operazione di riconoscimento tramite lo CR abbiamo anche i log degli accessi quindi un log raw un log dove praticamente abbiamo solamente le descrizioni senza tutte le informazioni senza le foto per funzionare questo questa telecamera con i software biosecurity ha bisogno di una licenza posta scusate l'immagine purtroppo colpa mia e oltre ad avere una licenza per i punti quindi per le porte quando siete in fase di ordine dovete chiedere la licenza per attivare l'azione video del software ZK biosecurity con il supporto Omvif il software biosecurity che viene fornito con questo tipo di applicazione è una versione speciale per la telecamera per la telecamera LPR non non è una 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 versione dove ha tutte le funzioni che ha l'attuale software biosecurity e dovete chiedere espressamente quando fate l'ordine di avere i software per questa LPR come vi ho detto prima la telecamera può funzionare anche stand alone le applicazioni e di scenari di questa telecamera sono molteplici possono essere applicate per applicazioni stop and go tipo motorizzazione tipo degli accessi in questo caso qui abbiamo la la frontiera di San idro e abbiamo un altro sistema di pagamento pedaggio o ispezione veicoli abbiamo la possibilità di eh poter far accedere a dei locali industriali oppure eh di autorizzare eventualmente riferimento in certe stazioni eh di benzina eh avendo il riconoscimento della targa eh riconoscimento del veicolo con eh contemporaneamente al riconoscimento della testa per fare riformimento può essere utilizzato per gestire dei parcheggi in centro eh dei lavaggi auto limiti della della propria fantasia di seguito c'è l'elenco delle nazioni con le targa riconosciute eh praticamente l'Europa eh quasi completamente completamente coperta dal punto di vista delle nazioni delle targa riconosciute l'America del sud credo che credo che manchi no messi che è stato aggiunto e questo è l'elenco degli stati americani per il quale viene effettuato il riconoscimento della targa eh l'elenco delle nazioni supportate eh del continente Asia e del continente africano per altri stati che non sono nell'elenco eh potete comunque contattarci per per avere una 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 piccola personalizzazione qui c'è l'Australia grazie per l'attenzione adesso andiamo a vedere un po' la nostra la nostra telecamera allora come vi abbiamo come avevamo anticipato prima questo è il menu della telecamera se io esco da qui questa è la telecamera che ci si presenta al primo eh primo accesso effettuato tramite l'indirizzo dp 190 192 168 186 admin della password 13456 abbiamo la possibilità di avere il la visualizzazione live adesso qui purtroppo vedete queste righe che sono dovute al fatto che sono in un ambiente chiuso e sono le luci del neo che danno questa interfaccia avete la possibilità di tramite la questa interfaccia live di poter andare a modificare lo zoom della della telecamera oppure anche il fuoco più avete la possibilità di modificare la luminosità e il contrasto della telecamera la telecamera funziona con internet explorer 11 internet explorer 11 è fornito anche nelle ultime versioni di windows 10 perché ha una caratteristica molto importante che tutti gli altri navigatori hanno snobbato che sono gli ocx questa telecamera ha la necessità di avere la possibilità di installare questi ocx sopra i navigatori quindi quello chiamiamolo più facile da poter fare dove poter fare questa operazione è appunto internet explorer 11 abbiamo la possibilità di vedere eventualmente il playback quindi le registrazioni effettuate abbiamo la possibilità di avere un preview dei file di tutto lo storico di quello che c'è stato questo è il menu del setup che vi dicevo prima dove è il menu completo della telecamera seriotomia dove tutti questi tutte queste voci non vengono utilizzate per ai fini diciamo così del riconoscimento dello cr della parte lpr della telecamera abbiamo la possibilità di vedere i file di log di fare una ricerca di vedere tutte le operazioni che sono state fatte dal punto di vista dell'accesso della telecamera quindi quasi lato sistemistico quindi il menu mi fa vedere chi si è collegato a che ora da quell'indirizzo dp la possibilità di vedere gli allarmi che purtroppo nella versione lpr non è stata implementata ma è implementata nella parte della telecamera 8000 della telecamera ZK Teco e questo è il menu principale alle PR che è quello della nostra telecamera è il menu dove andremo a fare per prima cosa il setup dove andremo a dirgli che tipo di continente su quali tipo di continente lavoriamo quali sono le nazioni da poter raggiungere in che modo funziona quindi il modello che abbiamo detto trigger da esterno da sotto il free flow il motion detection per avere la possibilità di permettere anche il riconoscimento delle targhe delle moto la possibilità di andare a configurare i ROI con questa semplicissima operazione di lui gentilmente ci ha fatto un fermo immagine io vado a prendermi la mia zona dove voglio andare a fare il riconoscimento target e automaticamente lui la salva una volta che ho fatto il disegnino col mouse mi mette i valori qua e vado a fare un restart service per applicare questo tipo di riconoscimento in questa zona della telecamera ho la possibilità anche qui di fare l'elene che ha fatto un ubriaco scusate la battuta a questo punto anche la lane è stata selezionata anche qui ho in mezzo il go to meeting gli do un restart service per configurare il discorso delle lane l'expert opton che abbiamo visto prima quindi il massimo coefficiente per il riconoscimento dell'OCR e qui premendo su questo impostante qui avete la spiegazione delle voci che ci sono in questi menu il software è in lingua inglese purtroppo o per fortuna dipende per alcuni hanno fortuna e per altri no il minimo dei caratteri della targa per essere riconosciuto il focus del lane la direzione del traffico la camera in che posizione è quindi in questo caso è messo alla sinistra del veicolo che deve essere riconosciuto qui ci sono i parametri di trigger che abbiamo visto prima e qui ci sono i parametri del flusso libero dell'HPM il modulo qui evidenza è quello che abbiamo detto prima dove si può andare ad aggiungere un'altra telecamera per andare a salvare ulteriori immagini dopo il passaggio della telecamera dopo il riconoscimento della telecamera principale qui abbiamo delle altre configurazioni che sono quelle che abbiamo visto prima se vogliamo vedere nell'immagine qui una lista se vogliamo vedere una lista di veicoli che sono arrivati con la modalità square o list la possibilità di vedere dei file di log i file di log sono molto utili e molto interessanti quando andate a fare la prima installazione perché potete vedere in che modo lavora la fotocamera in che modo lavora lo CR e se impostati con questo livello di log ci sono delle altre impostazioni che sono dei livelli di log a livello 4 o 5 che nel caso ci sia qualche problema sul riveligamento della telecamera vi chiediamo di attivare ed eventualmente di fare un copy and cola del file di log o l'esportazione come vedrete in seguito del livello 4 e del livello 5 aprendo un ticket per permetterci di analizzare un attimino meglio i vostri diciamo così il messaggio di errore che può dare la telecamera la purge options è la parte di tra virgolette di pulizia della memoria della telecamera della memoria SD lo possiamo fare ogni ora lo possiamo fare ogni giorno a mezzanotte lo possiamo fare ogni weekend alla mezzanotte del lunedì matrina e ogni primo giorno del mese sempre a mezzanotte oppure lo possiamo disabilitare oppure farlo in base a determinati giorni o in base alla percentuale di spazio prima abbiamo visto che abbiamo la possibilità di comprimere le immagini che vengono prese dalla telecamera non ha diciamo che non occupa molto il file acquisito tramite lo CR e il file completo qui potete vedere che i 64 giga della memoria SD che sono all'interno della telecamera sono occupati veramente poco quindi qui in questo menu qua voi avete la possibilità oltre di fare diciamo così la pulizia nel menu che vedevamo prima in automatico anche fare una formattazione ex novo della telecamera della memoria che si tratta della telecamera ok torniamo in arrabbiare il menu in questo menu in questo sottomenu del sottomenu dell'LPR main quindi dell'LPR maintenance option abbiamo la possibilità di vedere la versione del del software che si ritrova della telecamera avere il MAC address e la possibilità di resettare completamente il database oppure una cosa abbastanza importante quando avete finito di fare la configurazione e la telecamera di funzione premete questo vertu saltino ti fa fare l'export della configurazione generale lo salvate lo salviamo in download e praticamente lui in download vi va a salvare tutta la configurazione ROI eccetera eccetera e l'ampiezza dell'autoratura della fotocamera la risoluzione come la luminosità contrasto come erano le impostazioni del free flow quindi nel caso la telecamera debba essere riconfigurata con questo file il valentino qua ci mettete molto ma molto meno tempo l'audit per andare a fare delle ricerche all'interno dell'opzione di esportazione delle opzioni di importazione o delle azioni che sono state fatte dalla telecamera quindi qua quando ha riconosciuto la targa RZE8KH1 della lista all plates ha fatto la configurazione di I.O. che potremmo vedere dove praticamente ha aperto RL.E. qua avete anche un po' lo storico dell'opzione che fa la telecamera la parte di debug scusa andiamo in ordine la parte di debug è quella che dicevamo prima che potete configurare a livello 3,4,5 abbiamo la possibilità di vedere il debug di quello che è stato fatto a livello sistemistico abbiamo la possibilità di vedere la parte di debug qui è abbastanza lungo di tutte le operazioni che vengono fatte qui abbiamo un errore perché è archivato un trigger col protocollo HTTP code e probabilmente è stato configurato una URL che non risponde oppure avete la possibilità di vedere a livello più approfondito il motore del riconoscimento dell'OCR e adesso qui ci vuole un po' per farlo partire avete la possibilità di cancellare tutto lo storico dei log e eventualmente di fare il download dei log nel caso abbiate dei problemi vi chiediamo gentilmente di fare il download dei log e di allegarci il file il menu principale di questa telecamera ecco è arrivato, è un po' grandire il 480k è un po' che questa telecamera è attiva nel menu principale abbiamo la possibilità di vedere la zona che abbiamo disegnato prima per vedere se effettivamente l'abbiamo disegnata bene o meno in tempo reale quindi eventualmente se abbiamo la possibilità di aver sbagliato qualche cosa abbiamo la possibilità di correggere abbiamo la possibilità di vedere le linee per eliminare le correggiate le corsie, perdono e abbiamo il riempilogo delle immagini che vengono acquisite con il numero di targa, la nazione su quale lane, cioè su quale corsia è stata riconosciuta abbiamo la possibilità di avere l'accuratezza questo è quel parametrino che si diceva all'inizio di avere la targa con l'altezza a 30 pixel la data e l'ora di rilevamento della telecamera qui avete la possibilità di fare delle ricerche per il numero di targa per la lista per vedere tutte le targhe che sono tutti i rilevamenti delle targhe che sono state fatte in una determinata lista qui avete la possibilità di dirgli da che data ha che data fare appunto queste ricerche e avete la possibilità di esportare anche i risultati della ricerca effettuata un piccolo problemino su internet adesso si sta riprendendo ok qua abbiamo il riepilogo della ricerca fatta abbiamo la possibilità di scrollare per le pagine della ricerca effettuata e abbiamo la possibilità di esportare il risultato dei rilevamenti in formato RAW quindi solamente in formato testo abbiamo la possibilità di vedere l'immagine della targa che è l'immagine complessiva nella quale è stato fatto il riconoscimento dell'OCR questo è il file che è arrivato così che è tutto file repelogativo di tutti i riconoscimenti che ci sono stati data, ora, targa, velocità eccetera eccetera e questa è la parte chiamiamola più importante per quanto riguarda gli accessi queste sono le liste che ci sono all'interno della telecamera sono quelle di default queste, perdono sono quelle di default vediamo anche questo dove praticamente si hanno le possibilità di fare tutte le azioni che abbiamo fatto prima in questo caso qui in questa lista di default ho attivato la funzionalità dell'FTP che serve per essere collegata sotto il biosecurity qui viene detto cosa fare quando c'è l'importazione di questo file che viene esportato da da software biosecurity e nelle registered place ho l'elenco delle targhe che sono memorizzate e la funzione che deve fare questa lista quindi in questo caso mi deve aprire l'apertura del relay questo programmino qui è un software free che mi fa da FTP che mi serve per andare a prelevare i file che il biosecurity mi genera io in questo biosecurity ho un utente solo dove posso andare ad aggiungere una varga vado ad aggiungere questa targa adesso un utente può avere fino a sei target censite nel proprio archivio adesso lo aggiungo qua per... ah si scusa lo aggiungo anche lui è stato un po' tempo non collegato andiamo in plate resistere andiamo in più e diciamo 5,7 5,7 5,7,7 6 cms cms a questo punto gli do l'ok biosecurity me lo manda di FTP scusate mi è andato a fare l'esportazione del file 1604221623 dove mi ha aggiunto la targa che ho inserito prima come potete vedere il timestamp come dicevamo prima lo può mettere lui automaticamente si ha la descrizione dell'auto in questo caso qui la data di valenità e la data di mancato accesso lo va a inserire vuoto vado nella lista in all plate abbiamo detto che lui mi fa l'importazione ogni minuto e vado nel registered place da due sono diventati tre e mi trovo la telecamera e chiedo scusa mi trovo il numero di targa che ho appena inserito per avere l'accesso alla telecamera adesso faccio una piccola prova non so se sentite partito il relay del tester che dice ha fatto il riconoscimento della targa e praticamente abbiamo già autorizzato questo tipo di veicolo torniamo un attimo nelle liste torniamo in registered place allora la data di inserimento è la data come abbiamo visto prima nelle foglie di excel che era non compilato come campo e ha messo la data attuale la data di importazione la data di validità ha messo anche qui la data di importazione e qua ha messo 0101 del 3000 ovviamente questa può essere modificata se c'è la necessità di dover modificare la data del permesso c'è anche la possibilità come si diceva prima di fare l'inserimento a mano io volendo da questo menu qua posso premere più e gli metto una targa fittizia come descrizione posso mettere la data di inserimento non è un campo modificabile perché come abbiamo detto sul tasto save ci va mettere l'ora la data di quando viene premuto il tasto save gli dico che la data di validità deve essere valida da oggi alle 16.30 e gli dico che lui non può più entrare tramite la sua targa il 30 di aprile a mezzanotte faccio save e io qui ho già fatto la manutenza cioè praticamente ho già aggiunto un nuovo accesso un nuovo permesso per una targa voglio avere delle altre esportazioni per quello che riguarda la funzionalità master e slave delle mie white list quindi fare la configurazione master e slave dell'elenco delle targhe seleziono register place gli dico di esportarmi un csv file perdon esport slave gli dico che tipo di esportazione devo fare stp list gli dico ogni minuto di esportarmi il file in formato csv delle targhe e gli posso dire di esportarlo ogni minuto oppure esportarlo se viene fatto un cambiamento nella licenza scusate nella lista delle targhe dove ho appena fatto la modifica gli do save e a questo punto qui ho la possibilità di andare nella slave di fare adesso purtroppo io non ne ho collegate due contemporaneamente ma gli posso mettere una descrizione con scritto import white list black list o lista vip o quello che è e di sincronizzarmi la telecamera sempre con l'intervallo di minuti sempre abilitato lui va a fare un controllo per poter vedere se ci sono dei dati nuovi in queste telecamere oppure se viene cambiato un file l'abilitazione sempre e a questo punto qui io ho creato il mio scenario per fare un impianto master slave oltre a la possibilità di creare end list come abbiamo visto con il pulsante più aggiungere le targhe per ogni azione di ogni lista ho la possibilità di avere dei parametri da aggiungere in questo caso qua se io clicco sulla funzione del relais che ho abilitato per per fare scattare quando viene riconosciuto una taglia ho la possibilità di dargli un tempo di validità di questa operazione quindi di fare scattare il relais gli dico qual è l'uscita output quindi l'uscita in questo caso perché era una sola e quanti secondi mi deve rimanere attaccato il relais per il discorso dell'export dalla telecamera master verso la telecamera slave io ho scritto una boiata gli do l'indirizzo di FTP sul quale andare a scrivere i file gli dico qual è la porta del server FTP dove andare a scrivere i file in quale formato voglia che vengono esportati i file in quale cartella o sottocartella del server FTP del serverino FTP sono contenuti file il numero utente la password per quello che riguarda l'accessione FTP che può essere un FTP o un FTP criptante quella è l'FTP l'FTP questa è la parte di importazione della telecamera slave dove ho solamente da aggiungergli l'host l'indirizzo di FTP dell'HTP server user name e la password e questo io lo creo per ogni lista di altre cose che possiamo vedere sono le variazioni che possono avere le liste che sono quelle che si dicevano prima socket client socket server per avere l'implementazione di terze parti delle informazioni che vengono catturate o inviate la telecamera l'IO che è quello che permette di far aprire la porta l'FTP abbiamo visto adesso che è quello che serve per esportare e importare le liste di target la possibilità di comunicare tramite HTTP con i software di terze parti la possibilità di comunicare con il video management system MindStone e il trigger server il Wigan 1B che serve per poter collegare delle centrali Wigan particolari la possibilità di mandare via un'email che è quella che abbiamo visto prima e la possibilità di collocare direttamente con lo software biosecurity che è quella funzione che abbiamo abilitato per per fare funzionare la modalità offline quindi adesso io salvo salvo questa premendo su questo su questa azione di questa lista ho i parametri da poter andare a inserire affinché mi venga inviata la mail quando praticamente viene riconosciuta una una targa sempre con questo pulsante qui ho i vari parametri dove devo andare a inserire indirizzo di mente server la porta che tipo di formato al server se criptato non criptato da chi arriva la mail quindi da borsa fantasia l'utente con il quale mi devo logare per inviare via l'elemento e server smtp la password a chi la voglio mandare chi è il destinatario della cosa il destinatario della mail posso configurare il soggetto posso modificare il messaggio con con questi campi qua per personalizzare il campo campo appunto dell'oggetto per avere determinate informazioni piuttosto che altre e per il modulo della della mela è tutto direi che più o meno è anche tutto per quanto riguarda il webinar in quanto un'altra cosa che posso farvi vedere è la configurazione dell'fpp che ho attualmente su su questa lista e l'altra di questa cosa quello che abbiamo visto prima come azione per l'importazione e per il collegamento ha detto cavalli security e parla modalità come abbiamo detto prima quello online che purtroppo in questo webinar non lo riesco a fare in generale la modalità online è quella che prevede comunque di avere una controller collegata alla al software in questo caso vediamo ok sì è una controller con il quale configurare la telecamera come se fosse una un lettore di base e praticamente la nella configurazione online non scatta più sulla relai della telecamera ma scatta sulla relai della della controlla e questo nel caso non ci sia la possibilità di collegare direttamente il relai alla telecamera o altri scenari quindi a questo punto io direi che se se volete possiamo passare alle domande ovvio sbagliato tutti o non ci sono domande se qualcuno un giorno l'audio sparisce sparisce spesso software non software esiste un tour per la ricerca o uno stile della telecamera sulla rete allora sì esistono tutti sulla telecamera sulla rete però in questo caso è embedded dentro dentro al software zkb security per questo tipo di telecamera ok ne ho viste ne ho viste un pochettino quello utilizzato in questa demo è questa qua che dice che questo dispositivo è già stato giunto per il controllo tramite tag è possibile anche l'utilizzo per gestire la merce in ingresso oppure in uscita avete una raccontina di programma per tutti i prodotti zkb perché ne avete veramente tanti questo darebbe la possibilità ai commerciali di sapere bene cose come proporre il nostro prodotto ultimo donato i miei dispositivi sono anche con menu in italiano tipo di gestione accessi che mi scuso un attimo i miei dispositivi dunque in questo caso come abbiamo detto come ho detto prima la telecamera che piano non ha il menu in italiano per quelle che riguardano i controller anche le controller quelle che hanno un web service quindi le MBIOS hanno il web service sempre in inglese io ho domande commerciali le direi di dover contattare il nostro commerciale di riferimento questo è un corso tecnico nessuna domanda grazie ciao la favolista come si dice il peer to peer Nicola ti chiamo poi te lo dico dai è possibile avere la registrazione allora la registrazione no però tutti questi webinar vengono pubblicati Matteo e quindi li potrai frire quante volte vuoi allora io purtroppo vedo delle striche delle domande ci sono sì pubblicati dove no ok sono arrivati un secondo dunque pubblicati dove Matteo vengono pubblicati sul canale YouTube di ZKTECO eventualmente puoi farci la richiesta per e-mail accesso ad eventuali motocicli viene sempre consentito dalla camera no abbiamo detto che i motocicli bisogna andare c'è un settaggio apposta nei motocicli che è Antonio qua dentro al menu LPR menu setup permetti motociclette non permette motociclette Daniele vengono pubblicati sul canale YouTube anche video e vi dovrebbe arrivare comunque un link dopo la partecipazione a questo webinar grazie lo avevo perso nessun problema Antonio sono qui per questo signori è stato un piacere non ci sono più domande vedo che venerdì per tutti grazie per aver partecipato e alla prossima alla prossima per la partecipazione per la partecipazione si non